E ciao a tutti amici, sono il posto caro Dexter e oggi siamo tornati con una nuova Challenge in love Con i Fidget Spinner La nuova moda del momento, oggi faremo tante sfide con i Fidget Spinner Sfiderò Violetta prima a fare una sorta di Jenga E poi, soprattutto, la sfiderò con le trottole tipo Bade Blade E ragazzi, questo video raggiunge 100.000 mi piace, Violetta la pagherà cara E la penitenza non sarà altro che modificare i Fidget Spinner Trasformandoli in armi, più o meno pericolose E testarli su Violetta Ma no, ma scusa, tu sei matto 100.000 mi piace, ci proviamo, faremo degli esperimenti con i Fidget Spinner Ma adesso illustriamo i nuovi che ci hanno inviato Sì, sono già i miei rosa Allora, no, vuoi dire che ci stanno quelli più plasticosi tipo questi? Quelli di plastica tipo questo Però è buono, gira velocemente E poi ci sono i miei preferiti, questi In metallo In metallo E sono pesantissimi Fanno tipo doppio colore Quando dici Aia Sono pesantissimi, se ti arrivano in faccia comunque fanno male Con questo faremo le penitenze, tirerò questi Aspetta un'idea, ti vesti tipo vestiti da sumo E io te li tiro addosso tipo così, tipo stellette niente 40.000 mi piace, prossima challenge in love Ma adesso siamo pronti Ora, mentre Violetta spacchetterà tutti i Fidget Spinner Vi spiego un attimo come funziona la prima challenge Noi dovremo, noi dovremo Volano anche Cercheremo di creare una torre di Fidget Spinner Ma metteremo un Fidget Spinner per volta E cercheremo di non farli cadere Ovviamente chi farà cadere, ecco in questo caso l'ho fatto cadere io Perderà un punto Chi arriva primo a tre punti, cioè chi sbaglia tre volte, perde Violetta, sei pronta a creare questa torre? No, ho paura che faremo un casino Inizio io, primo Fidget Spinner Ma c'è una tecnica E non te la dirò Vabbè vediamola, vediamo se vincerai Oh Ma non devono girare nel frattempo Sì e poi facciamo, fa pure il caffè I miei girano Fai mettere il terzo Con calma Vioretta, prova Ora arriva la cosa difficile Ora arriva la parte difficile Vioretta Vabbè allora, allora sei infame Che vuoi? Che ho fatto? Silenzio Oh No, no, oh Non mi devi deconcentrare Ops Questa è una cosa seria Prima si pensa e poi la si fa Oddio Sì ma se girassero sarebbe più bello Fagli girare Fallo girare tu A me stanno a girare altre cose se non mi fai concentrare Ok, l'ho messo Tocca a te, mettilo Si fa sempre più difficile la sfida Siamo già a uno, due, tre, quattro, cinque Il sesto questo Basta, non lo fa girare Ah sì, ok Ogni volta che lo mettiamo lo dobbiamo far girare Io giallo Tutti gialli Sono quello dei Fidget Spinner gialli Ok Ok È girato Ha girato Vabbè un pochetto ha girato Siamo a otto? No, siamo a sette Sì ma è già in tendenza E mo tocca Sì, mo so cavoli tuoi Mi rovo poco lo nero Oh Ha traballato, eh Sì Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì vado a girare brava mi sa che qui qualcuno sbaglierà quello di figlio spinner gialli se non sbagli te sbaglio io però madonna ferma lo devo far girare più o meno sta girando pure ok ha girato ha fatto un giro completo ho capito tocca a te ma tutto questo mi fa volare no 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 non mi dì che ce l'hai fatta momento così guarda poi sono le schifo vai prego le prego lo faccio girare guarda mo lo fa casca perchè perdi non è divertente hashtag violetta non rosicare qua sotto nei commenti ma sono buono no ragazzi sono buono ridiamo un'altra possibilità violetta prego rimetta il mattone lo devo mettere io vai lo rimetto così quello rosa stavolta non sono ricordo un po ma mettilo bene ecco vabbè mi distrai te eh sì io l'ho distratto eh va bene 2 a 1 3 in realtà vabbè 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 prego facciamo questo mettilo in cuo in corsa sai che ci vuole quella dei figi spinner gialli no quello ero io non è caduto non è caduto questo è barare comunque ho detto eh no non è caduto manco l'hai fatto girare dai si vabbè te lo diamo come è buono eh quello rosa non ha fregato prima però non li mettere male apposta eh ma che vuol dire ci sta eh vai giallo giallo guarda che se finisce perdo automaticamente se finisce quello sotto e quindi ci dobbiamo anche sbrigare a farlo aaaaaahhh mi ne ho di concentrato poi mettendo in fretta ecco massimo esperto di figge spinner vabbè contento che guardate massimo esperto mi sa anche che l'hai rotto Sulle palle Sulle palle mi ha fatto male Era quello di metallo Mi ha fatto male Mi ha perso la prima sfida Silenzio Fa male Ho sentito il rumore Ma adesso siamo pronti al secondo round Ovvero la sfida delle troncole Vi ho detto ovviamente il rosa Quello di retta si regge da solo Quindi è anche più avvantaggiato Il mio figge spinner verde Lo sai come funzionano le regole Devi farlo girare Li dobbiamo far colpire E quello che esce dal ring o muore per primo Perde Ovviamente anche qua invece di tre tentativi Ne avremo cinque Via alla sfida Vai vai Cali dal ring Cali dal ring Vabbè ma non vale È ripreso Incredibile Non vale Non ho fatto niente Guarda 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 come si mette Guarda se mi incazzo Guarda 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 È caduto prima Yeeeh Comunque Io vorrei fare notare una cosa Hashtag Violetta Abara Perché lei Ma me l'hai preso parata di due Alla cosa facilitata Vabbè Secondo Vai Violetta Fallo partì Eccolo Winner Winner tago Winner che Stiamo a due Stai a due Ti riacci Ti riacci Vai tre Due Uno Vai prendilo Eh mammo Te piglia e te te butta fuori Guarda Eccolo Si sta avvicinando Però piglialo Oh avvicinando Piglialo 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 Sì Ma non è uscito Vabbè ma è morto È morto È morto È silenzioso il tuo È un killer letale Dove è uno? E chi avrà vinto questa sfida Scriveteci nei commenti Che penitenza dovrò pagare Però adesso siamo sempre due a uno È morto Pubito proprio 3 a uno Che vita breve Sei a tre eh Vai vai Dai un altro colpo Dai un altro colpo Bravo No io l'ho data a te No no Te sei allontanata Però così vinci sempre te Perché Oh 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 Te prego Te prego Te lo riesca Ho ripreso Ho ripreso Si sta avvicinando Si sta avvicinando Vedete un'altra botta Sì 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 Ma ragazzi Ma chi ve li porta Sti video originali Su YouTube Italia Chi ve li porta Chi ve li porta Sono Dexter e Violetta Oh Ci può essere recupero Dai Mettilo prima tu Che è sta storia Mettilo prima te Ci sono Ci sono esponsi Al photo finish Secondo me ho vinto io Rivediamo al photo finish Yes Mettilo prima te 3 2 1 Ok il mio è un po' Il problema è che tu stai già fuori Eh lo so E qua ti parto Parto svantaggiato Però attenzione Attenzione sta titubando il tuo Vai addosso Vai addosso Fai gli male Spingico Sì Stava per morire Ti ha spinto 4 a 2 Vai Ciao Ciao Ma che è Sei suscitata Ciao Ciao Quattro a tre Vai 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 20 eh Sì È uscito È uscito È uscito 4 pari Sfida finale Dove si decide tutto Come disse un filosofo Chiamato Maishosha Ora si vedrà veramente La differenza Tra i uomini E i ragazzini Sei pronta? Vai mettilo Ehi Fire E vabbè ma aspetta Dai No Un secondo And the winner is Il vostro Cosa stai facendo? Ho già vinto No La rivincita Chi vince questa Vince tutto Grazie Campione indiscusso Dei fidget spinner Il king Dei fidget spinner Eccolo qua Violetta Ah Dovrei pagare penitenza Ora faccio pagare penitenza Violetta 100.000 mi piace Costume da sumo 40.000 mi piace Prossima challenge Love Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Ora Penitenza a violetta Con questo Noi ci vediamo prestissimo Un nuovo video Vi mandiamo un abbraccio Un salutone E adesso Violetta Preparati Chiudi gli occhi No no Mi fai male Non fa male Oh leva le mani Aia Si effettivamente fa un po' male Iscrivetevi al canale Se non mi piace E noi ci vediamo prestissimo Un nuovo video Voglio chiedere like A 100.000 like Lo fa Dex Con il tuo sumo Va bene Lo faccio E me li tiri Iscrivetevi al canale Noi ci vediamo prestissimo Un nuovo video Vi mandiamo un abbraccio Un salutone E ci vi Ciao gente Ciao